La giustizia e le ingiustizie Federico Stella Il male radicale legalizzato anche nell'Occidente La pena di morte e la negazione dell'umanità della persona giustiziata Ancora una volta, di fronte alla pena di morte, ci troviamo in presenza di membri della razza umana trattati come non umani, come oggetti con cui giocare per poi gettarli via L'uccisione premeditata di un essere umano da parte dello Stato implica infatti per sua stessa natura la negazione dell'umanità della persona giustiziata L'esecuzione della pena capitale è come se si dicesse non sei fatto per questo mondo, cercati un'altra possibilità altrove Sotto questo profilo, la pena di morte appartiene a buon diritto, anche se preesistente al 1900 alla novità teorizzata ed eseguita su larga scala nel secolo scorso l'abbandono dell'idea che tutti gli esseri umani partecipino ad una comune umanità Questa constatazione è tanto più agghiacciante se si considera che la pena di morte è ancora in vigore in quella che è ritenuta la più grande democrazia occidentale, cioè gli Stati Uniti d'America, ed è tanto più agghiacciante da indurre la Corte Suprema americana a pronunciarsi ripetutamente contro la sua permanenza. Riporto qui di seguito una sentenza della Corte Suprema del 1972, stesa per mano del giudice Brenna nel caso Furman contro Georgia Mentre lo Stato ha il potere di punire, la clausola del giusto processo si erge a garantire che tale potere venga esercitato nei limiti degli standard di civiltà Alla fin fine la clausola della punizione crudele e inusuale proibisce l'inflizione di pene incivili ed inumane. Lo Stato, anche quando punisce, deve trattare i suoi membri con rispetto per il loro valore intrinseco come esseri umani. Una punizione quindi è crudele e inumana quando non tiene conto della dignità umana. Ci sono principi riconosciuti nei nostri casi inerenti alla clausola sufficienti a fornire un'indicazione giuridica sul fatto che la pena impugnata sia o non sia compatibile con la dignità umana. Il principio basilare è che la pena non deve essere così severa da sminuire la dignità dell'essere umano. Il vero significato di queste pene è che trattano i membri della razza umana come non umani, come oggetti con cui giocare per poi gettarli via. Sono quindi queste pene, in contrasto con le premesse fondamentali della clausola, per le quali perfino il più spregevole dei criminali resta un essere umano in possesso di una dignità umana. La morte è negli Stati Uniti una pena eccezionale. In una società che proclama con tanta forza la santità della vita non è certo sorprendente che sia opinione comune che la morte è la sanzione definitiva. Questo è il sentimento umano naturale che si riscontra tutti intorno a noi. Non c'è stato nessun dibattito nazionale sulla pena in generale o sulla pena del carcere che possa venire paragonato al dibattito sulla pena di morte. Nessun altro tipo di punizione è stato così di continuo limitato. Ne ci sono degli Stati che abbiano già abolito il carcere come ce ne sono invece che hanno abolito la pena capitale e quegli Stati che la combinano ancora la riservano ai delitti più nefandi. Le giurie naturalmente hanno sempre trattato in modo diverso i casi capitali, come pure hanno fatto i governatori che esercitano i loro poteri di commutazione della pena. Da quando di tanto in tanto viene messa in discussione la sua natura di pena costituzionalmente permissibile, la morte rimane l'unica punizione che può davvero rivelarsi una punizione terrificante. L'uccisione premeditata di un essere umano da parte dello Stato implica per sua stessa natura la negazione dell'umanità della persona giustiziata. Il contrasto con la situazione di chi è punito con il carcere è evidente. Un individuo in carcere non perde il diritto di avere diritti. Un carcerato ha pur sempre, per esempio, i diritti costituzionali della libertà di culto, della non applicabilità di pene severe e inusuali e di essere trattato come una persona ai fini del giusto processo e dell'equa protezione da parte della legge. Un carcerato resta un membro della famiglia umana e per di più conserva il diritto di accesso ai tribunali. La sua pena non è irrevocabile, a parte l'obiezione comune fondata sul riconoscimento della fallibilità umana che la pena di morte sarà inevitabilmente inflitta anche a degli innocenti. Sappiamo che la morte è stata il retaggio di uomini le cui convinzioni non erano costituzionalmente protette alla luce delle sentenze successive di questa Corte applicata retroattivamente. La pena stessa può essere stata inflitta in modo incostituzionale. Eppure la definitività della morte preclude la riparazione. Una persona giustiziata ha veramente perso il diritto di avere dei diritti. Come ha dichiarato nel XIX secolo un sostenitore della pena di morte per i condannati, quando un uomo viene impiccato, è la fine delle nostre relazioni con lui. La sua esecuzione è un modo di dire non sei fatto per questo mondo, cercati un'altra possibilità altrove. Oggi in confronto a tutte le altre pene, allora la soppressione deliberata di una vita umana da parte dello Stato è degradante in modo assolutamente unico per la dignità umana. Sebbene la pena di morte sia una pena che è stata inflitta attraverso tutta la nostra storia, in effetti la storia di questa pena è la storia di una progressiva limitazione dell'ambito di applicazione. Quella che era una volta una punizione comune è diventata nel contesto di continuo dibattito morale sempre più rara. L'evoluzione di questo tipo di pena dimostra che tale concetto non fa inevitabilmente parte della scena americana, ma è diventato progressivamente più penoso per la coscienza nazionale. Il risultato di questo movimento di pensiero è il nostro sistema attuale di amministrare la pena nel quale le sentenze di morte vengono combinate raramente e anche più raramente inflitte. Siamo naturalmente noi, il popolo, ad essere responsabili della rarità sia dell'inflizione che dell'esecuzione di questa pena. Le giurie che esprimono la coscienza della comunità sulla questione ultima di vita o di morte sono state capaci di limitarsi a votare per la pena di morte in circa soli 100 casi o poco più, tra le migliaia di casi giudicati ogni anno in cui si potrebbe applicare la pena capitale. I governatori da noi eletti che agiscono in nome di tutti noi hanno regolarmente commutato un numero consistente di queste sentenze ed è la nostra società che insiste col giusto processo di legge affinché nessuno possa essere ingiustamente mandato a morte, facendo così in modo che molte altre ancora di queste sentenze non vengano eseguite. Insomma, abbiamo reso la morte una punizione rara oggigiorno. Il declino progressivo e la rarità attuale dell'inflizione della pena capitale sta a dimostrare che la nostra società si interroga seriamente sull'adeguatezza di questo tipo di pena. Gli stati sottolineano che molte legislature autorizzano la morte come pena per certi reati e che gruppi consistenti dell'opinione pubblica continuino a sostenerla, come dimostrato dalle inchieste e i voti dei referendum. Quando una pena insolitamente severa è autorizzata per un'applicazione su larga scala ma di fatto non inflitta, salvo che in rare occasioni perché rifiutata dalla società, se ne deve necessariamente inferire che c'è una reluttanza profondamente radicata ad infliggerla. Per la verità c'è una forte probabilità che questa pena sia tollerata proprio perché poco usata. Se l'estinzione deliberata di una vita umana ha un qualche effetto di qualche tipo, è più probabile che sia quello di diminuire il nostro rispetto per la vita e di violentare i nostri valori. Insomma, la morte è una pena insolitamente severa e degradante. C'è una forte probabilità che venga inflitta in modo arbitrario il suo rifiuto da parte della società contemporanea, è praticamente totale e non c'è alcun motivo di pensare che serva a qualche scopo penale in modo più efficace della punizione meno severa della detenzione. La funzione di questi principi è di permettere alla Corte di decidere se la pena è compatibile con la dignità umana. La morte semplicemente non lo è. La constatazione più terrificante è che nei diversi paesi in cui è praticata la pena di morte, Afghanistan, Bangladesh, Bielorussia, Libia, Egitto, India, Indonesia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Singapore, Somalia, Sudan, Siria, Taiwan, Tajikistan, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam e Yemen, sembra che sia venuta a mancare quella capacità di pensare nella quale la Arendt vedeva l'antidoto contro i Lager e i Gulag. Se non fosse così, non solo non si capirebbe la mancanza dell'abolizione della pena di morte in paesi del mondo occidentale come gli Stati Uniti e il Giappone, ma resterebbe un mistero la ragione per la quale in paesi come la Cina, che nel 2004 registra ben 3.400 esecuzioni capitali, la pena di morte venga applicata per ben 69 reati, per la stragrande maggioranza dei quali appare assolutamente sproporzionata agli stessi sostenitori occidentali dell'esecuzione capitale. La pena di morte è infatti prevista ed eseguita per reati come l'evasione delle imposte, la frode fiscale, la frode finanziaria, la speculazione, la vendita di fatture false, la corruzione, la concussione, l'aggressione a pubblico ufficiale, la bigamia, l'appropriazione indebita di fondi pubblici, le lesioni, il contrabbando di sigarette, il contrabbando di macchine, il danneggiamento di proprietà pubblica o privata, il furto e il gioco d'azzardo, l'omicidio colposo, il tentato omicidio, la rivendita di ricevute IVA, la violenza, la prostituzione, la rapina e i reati informatici. Le condanne a morte emesse nel 2004 sono 6.000, quelle eseguite 3.400. Sono dati di Amnesty International che però precisa che le condanne e le esecuzioni sono probabilmente molte di più di quelle rese pubbliche perché sulle cifre reali la Cina mantiene il segreto. Anche secondo fonti cinesi i dati sono sottoestimati. Un funzionario del Partito Comunista cinese che scrive sotto pseudonimo ha dichiarato che tra il 1998 e il 2001 ci sono state 60.000 esecuzioni, c'è una media di 15.000 persone giustiziate all'anno, che per un delegato del Congresso Nazionale del Popolo, Chen Zhongjian, la Repubblica Popolare Cinese fa giustiziare ogni anno 10.000 persone. Quanto alle modalità esecutive si procede alla fucilazione o all'iniezione letale. Nella fucilazione il condannato seduto viene colpito alla nuca o alla schiena, mentre l'iniezione letale viene legato ad un lettino, perde i sensi in pochi minuti dopo l'iniezione e muore dopo 7 minuti. È accaduto però che in alcuni casi i condannati abbiano impiegato 8 minuti per perdere i sensi e 14 per morire. Ciò che maggiormente preoccupa le organizzazioni come Amnesty International o istituzioni come il Comitato Internazionale sui diritti civili e politici e il modo in cui vengono condotti i processi. Sia l'accusa che i rappresentanti del sistema giudiziario penale non seguono le procedure previste dal Codice Cinese stesso, in questo aiutate dalle autorità che lanciano campagne regionali e nazionali del tipo strike hard. Gli imputati in stato di detenzione non vengono assistiti da un avvocato, non hanno l'opportunità di organizzare la loro difesa, corrono un rischio continuo di essere torturati o comunque maltrattati perché confessino e la loro confessione verrà usata in aula contro di loro. I testimoni possono venire intimiditi e gli imputati non hanno il diritto di controesaminarli. Le sentenze possono essere pronunciate da comitati interni senza che ci sia un processo. Gli eventuali appelli possono essere respinti da giudici che si pronunciano a porte chiuse. Le campagne anticrimine strike hard non fanno che aumentare il tasso di esecuzioni capitali. Quella attuale è iniziata nel 2001 in nome della sicurezza ed è stata estesa fino al 2003. Non si capisce se ci sia una decisione politica in tal senso adottata su base nazionale e nel dicembre 2003 il Presidente della Corte Suprema del Popolo, Xiao Yang, ha chiesto che la campagna venga prolungata per contrastare l'aumento continuo dei reati della Repubblica Popolare Cinese. Ecco dunque i nuovi esseri superflui per la Repubblica Popolare Cinese. Che cosa fare?